Hanno nuovamente incontrato il prefetto di Arezzo Iorafi del comparto Aretino ed è già pronto un piano di sicurezza ad ampio raggio. Abbiamo rafforzato il coordinamento, quindi ci saranno delle pattuglie sia della Polizia di Stato che dei carabinieri che si muoveranno in modo coordinato nei diversi siti produttivi. L'incontro alla presenza delle forze di Polizia, anche alla luce dell'ultimo assalto in una ditta di preziosi il diciattesimo ed è inizio anno. L'obiettivo era quello di creare un tavolo di confronto costante, infatti questi incontri avranno una periodicità, proprio per affrontare insieme volta per volta le problematiche che emergono anche dall'esperienza dei singoli atti criminosi. E' chiaro che il realizzare un'adeguata prevenzione di questo tipo di reati richiede sicuramente un grande impegno, un coordinamento delle forze di Polizia per assicurare una presenza la più capillare possibile sul territorio. Però dobbiamo considerare un dato di fatto fondamentale che il distretto oro a retino è un distretto estremamente diffuso sul territorio, quindi occorre anche lavorare sul fronte delle misure di sicurezza passiva. Importante sarà così il ruolo degli istituti di vigilanza. È stato convocato dal signor questore, anche di intesa con me, un incontro tra gli specialisti della sicurezza e i responsabili degli istituti di vigilanza privata, in modo da realizzare anche una formazione riguardo ad alcune particolari esigenze operative che si rendono necessarie per migliorare la sicurezza del settore. Parallelamente proseguono anche le indagini delle forze dell'ordine sulla scia di furti che ha colpito il comparto Orafo. Dai quali si attendono anche dei risultati positivi e siamo anche confidenti sul fatto che alcuni responsabili, insomma, vengono già attenzionati.